Quest'anno ci hai conosciuto un po' di più. La vita in un'Euromeda, il clima che si respira con il team con cui ho il piacere di collaborare tutti i giorni, è entrato anche a casa tua. Per Natale, a nostro modo, vogliamo dire grazie a te e a tutti i clienti che hanno scelto la qualità di un punto vendita fatto di persone come me, ma soprattutto come loro. Buone feste a tutti, buon anno, auguri e buone feste. Buon Natale, buon Natale, buon anno, buon Natale, buon anno, buon anno, buon Natale, buon anno. Buone feste! Batte forte sempre! Auguri! Un euro batte forte sempre.